Irene, mi racconti la barzelletta del lupo ieri che ti ha raccontato mamma? C'è una ragazza che cotta un lupo. Non mi mangiare! Tua caca! Che gli ha detto il lupo? Tua caca! E invece la ragazza che serviva? No, non mi mangiare! La sono buona da mangiare! E il lupo? Tua caca! C'era il cesbuglio? Sì! Ma fa un bacetto! Ma! Fa sentire la figliadella invece com'è? Fa! Com'è? Fa! Sono morto papà! Sono morto! Sono proprio morto! Che stai a fare? Stai giocando! Non si gioca! Ti 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 e di cognome come fai? sonito a caca no, quello è l'uvo che sta a fare una cosa che non si dice di cognome come fai, Reni? sacca ah, vanizusa, da un bacetto qui agli amici ciao amici avete visto che è bello?